il video vediamo se riesco a fare questo video tra poco arriva Matteo tra poco arriva Matteo Niente male, non mi piace poi come si sviluppa, mi piace l'attacco, mi piace molto questo attacco con questa chitarra pungente, che non è esattamente, secondo me non è esattamente lo stile di Gilmore questo, però va bene, va bene. Allora, dai forse, forse dopo questo vi faccio un altro video stasera, eh, io mi devo sfogare insomma, devo andare a fare la cacca, non lo so, se che ci hanno rotto i coglioni, no, andiamo avanti, andiamo avanti, siamo già a due minuti, andiamo avanti, questa, questa la stoppiamo, la sentiamo dopo, dai, allora, adesso vi dico che cosa andrò a fare, adesso vi dico cosa andrò a fare, lo so che a tanti non gliene fotterà, non gliene importerà molto. Allora, a parte le cose burocratiche che devo fare, no, inevitabilmente, nei prossimi giorni andrò a trovare tutte le persone importanti o quantomeno che sono state in qualche misura di significato per mia mamma. Questo farò, questo farò. Perché? Non lo so perché. È è una cosa che mi sento di fare. È una cosa che mi sento di fare. A cosa serve? Non lo so. Non lo so. serve a me? Potrei farne anche a meno. Non lo so. È qualcosa che... Eh, lo dico, e ve lo ripeto spesso. Questi sono video spesso. A cosa serve che vi vengo a dire questa cosa? Ma niente. Però, vi dico quello che faccio io. Vi dico quello che faccio io. Hm? Poi magari metto un altro video un po' più... Perché mi sono venute in mente delle cose... però non saranno in questo video. Però questo. Non sono tante. Non ci impiego molto. A parte che alcune di queste persone sono importanti anche per me sono... Molto importanti. Molto importanti. E... È nulla. Questo è il mio modo. Questo è il mio modo. Io non sto mica dicendo che il mio modo è giusto. Quando sentite i miei pensieri. Non dico mica che la gente deve fare come me, no? Ma dico che la gente deve fare come me, che le altre persone devono fare come me. Però dico quello che faccio, no? A volte vi dico che vado a fare un giro in moto, no? O in macchina. Possono anche dire quello che faccio, no? A fronte di una perdita. Importante nel mio caso, no? E nulla. Video breve. Di nuovo un salutone a tutti, amici miei. Una buonanotte. Ciao. Ciao.